Sono tornati a casa con il sorriso e la gioia di avere raccontato il lavoro che c'è dietro ogni arancina speciale e le loro storie che sono fatte della quotidianità che vivono nella sede giorno per giorno. È lì che stamattina siamo andati a trovarli nel piano di una delle loro attività. Su una delle pareti della sala, un cuore che contiene i loro nomi, quelli delle loro educatrici. Raggi di isole è l'incubatore da cui poi è nata l'attività. Da un laboratorio gastronomico fatto con il maestro Zuppardo, come ha raccontato il presidente della cooperativa Etnos. Quando uno dei nostri ragazzi, per l'appunto Andrea, ha detto sono stato bravo, allora lì si è accesa la lampadina. Allora dobbiamo osare, dobbiamo fare qualcosa che possa davvero rappresentarci per l'immagine e l'idea che abbiamo. Cioè quella di dire che il lavoro è la forma di, scusate il termine, riabilitazione più elevata. Perché il lavoro che stiamo cercando di proporre e che abbiamo voluto dimostrare con la concretezza, è davvero uno strumento di cura, di riconoscimento e di dignità. La scelta di una ribalta nazionale è per condividere l'obiettivo. E già in tanti imprenditori si sono messi in contatto con loro, qualcuno anche per donare materie prime. Ed è per questo che adesso cercheremo di parlarne, anche proprio guardiamo avanti. Ne parleremo, proveremo a parlarne col presidente della Repubblica, ne parleremo col presidente del Senato, ne proveremo a parlare con sua santità il Papa. Cioè cerchiamo di andare dappertutto, perché dappertutto questo ci permetterà di raccontare una storia vera. A chi parla di strumentalizzazione il presidente della cooperativa risponde. Chi dice che spettacolarizziamo, che strumentalizziamo, lo pensi pure. Ognuno risponda con la propria coscienza. Però la stessa cosa la facciamo anche con gli anziani, la stessa cosa la facciamo con i detenuti. Allora strumentalizziamo tutti o semplicemente facciamo bene il nostro lavoro?